Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta, ho l'onore ed il piacere di ospitare quest'oggi colui che durante i giochi di Torino 2006 ha regalato all'Italia delle soddisfazioni immense, il re di quell'edizione, stiamo parlando di Enrico Fabris, pattinatore sul ghiaccio. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti voi. Grazie davvero per aver accolto il mio invito e grazie ancora a distanza di dieci anni per averci regalato quelle emozioni. Partiamo proprio da... Grazie a voi per avermi dato l'occasione di essere qui. E partiamo proprio da quell'edizione olimpica di Torino 2006, arrivavi con qualche favore a tuo gioco perché insomma arrivavi dal titolo di campione europeo all round, però mettere in cascina tre medaglie olimpiche forse era un sogno veramente ambizioso e grandissimo per te, un sogno che poi invece hai realizzato. Sì, era un sogno che comunque dentro di me ho sempre avuto, anche se non ho mai voluto mettere sulla carta medaglie o risultati precisi, ho sempre dato il 100% perché puntavo al massimo e è ovvio che dopo la prima medaglia che è stata la più piccola perché era di bronzo ma per me rimane la più grande, ero già pagato come atleta in modo tale che dopo non avevo più tensioni né particolari ambizioni e mi ha consentito di sciogliermi e di dare più del 100%. Che sensazione hai avuto Enrico quando su quella panchina ad attendere l'arrivo del tuo avversario principale se non ricordo male, sempre lui l'olandese Sven Kramer, quando negli ultimi suoi metri finali hai intuito che l'oro era tuo? Sì, erano i 1500 metri e le ultime batterie sono state veramente forti per il mio cuore perché ero alle stelle, ero primo, mancavano i più forti quindi l'attesa è stata veramente snervante, è stato il momento più stressante della mia carriera, poi si è sciolto tutto con la vittoria per cui poi ho cancellato quello che è successo prima, mi interessava solo sapere che avevo vinto l'oro nel 2005. Certo, chi c'era al tuo fianco in quegli istanti? C'erano tutti i miei compagni di squadra, il mio allenatore Marchetto e l'aiutante allenatore Baroni più tutti i compagni di squadra con cui mi ero allenato fino al giorno prima per cui è stata un'esplosione poi di gioia da parte di tutta la squadra, è stato anche quello il bello. Non hai avuto molto tempo per festeggiare perché in ballo c'era un'altra grande gara attesa per il team italiano, l'inseguimento a squadre dove grazie forse ok alla tua prestazione ma non solo, certamente quella del gruppo, ottenessi un altro strepitoso oro. Sì, sono due medaglie d'oro che spesso mi viene chiesto di paragonare o di dire qual è la migliore, però sono state due gioie completamente diverse e completamente grandi per motivi diversi e quelle individuali perché è tutta mia, quella con l'inseguimento a squadra perché sai che la tua gioia è condivisa con altre persone che provano la stessa emozione, per cui sono arrivate così velocemente che forse non ci siamo neanche resi conto di quello che stava succedendo. Che Olimpiadi indimenticabile è stata? Sì, più che altro abbiamo sfruttato al meglio il fatto che stavamo correndo in casa e ci siamo, eravamo tutti consapevoli del fatto che ci stavamo giocando un'occasione che pochi atleti al mondo possono avere, cioè quella di partecipare a dei giochi olimpici con la possibilità di fare molto bene e di essere davanti al proprio pubblico, ai propri connazionali. Il fattore casa ed anche il fatto di conoscere una pista, il ghiaccio, la qualità, l'ambiente, ciò che vi circonda, che cosa cambia? È un valore aggiunto non indifferente? Vuol dire tutto, anche perché noi ci siamo allenati molto su quella pista prima dell'Olimpiadi di Torino. Sapevamo che eravamo in Italia e ci trovavamo a nostro agio perché era il nostro ghiaccio, però solamente al momento delle gare e delle Olimpiadi ci siamo resi conto che stavamo correndo le Olimpiadi in Italia perché l'atmosfera che si poteva toccare e sentire in quei momenti là e prima non avremmo neanche potuto immaginarsela e questo è stato solamente d'aiuto e è stato un trampolino di inalcio per le nostre energie e per poter dare il meglio. Ci ricordi chi erano i tuoi compagni di team in quale inseguimento a squadre e se li frequenti ancora, se avete modo di vedervi? Assolutamente sì, i quattro inseguimenti a squadre eravamo io e poi c'era Stefano Donagrandi di Bormio che adesso ha lavorato con la nazionale italiana come allenatore fino all'anno scorso, adesso lavora e vive in Olanda, poi Polito Sanfratello che ha smesso poco dopo le Olimpiadi però ha continuato a collaborare con la squadra nazionale e adesso addirittura è segretario generale della nostra federazione Sport Ghiaccio e poi Matteo Anesi che ha continuato a patinare per ancora diversi anni e dall'anno scorso lavora assieme a me come assistente allenatore nella squadra nazionale. Hai dei ringraziamenti ancora da fare per questi risultati? Ringrazio veramente tanto chi è stato al fianco mio ma soprattutto di tutti i miei compagni di squadra per poter costruire qui successi, nessuno escluso. Fabriz all'esterno, 1.46.91 da battere, 1.46.91 da battere il tempo, 1.46.91 ci siamo, fai torna, fai testa, record della pista, record della pista, record della pista un secondo meglio di chi ha patinato finora. Ci sono ancora alcune coppie, sono quattro coppie un successo che non è arrivato per caso. Conosciamo la tua disciplina, un successo che non è arrivato in cui è una tra le più dure degli sport invernali. Vi vediamo patinatori con le vostre tuttine attillate, con due quadricipiti veramente impressionanti, ed è il frutto della grande mole di lavoro. Un lavoro che prosegue durante tutto l'anno, suppongo abbiate un paio di settimane, forse tre di riposo durante la stagione, durante un'annata, ma poi gli allenamenti continuano, continuano e continuano. Ci vuoi raccontare Enrico, ora che sei passato dall'altra parte della barricata, sei diventato tecnico azzurro, come funziona la preparazione di un patinatore di velocità in pista lunga? Io adesso professionalmente ho la fortuna di poter lavorare con la squadra nazionale, cioè con i migliori che ci sono in Italia e che stanno preparando i giochi olimpici, quindi sono orgoglioso anche della mia posizione. Oltre a questo ho il piacere di lavorare assieme a Marchetto, che era stato il mio allenatore, l'artefice dei successi di Torino, nonché il mio ex compagno di squadra Matteo Anesi. Maurizio Marchetto, l'allenatore storico del patinaggio italiano, è stato colui che ha portato ai vertici anche un Sigel, un Roberto Sigel, e poi ha continuato anche con te, quindi una pietra a miliari di questa specialità in Italia, ma anche all'estero. Sì, ha lavorato moltissimi anni nel nostro paese e dopo una parentesi di successo in Russia adesso è tornato a dirigere la nazionale in Italia, quindi andiamo avanti a tutta fino ai giochi olimpici e incrociamo le dite. Certo, dicevamo una preparazione dura e distinuante, ce la racconti? Sì, la preparazione è veramente difficile, però penso sia così per tutti gli sport ad alto livello. Il nostro ha una particolarità che utilizza dei gruppi muscolari che difficilmente si allenano in una vita normale o semplicemente andando a correre o andando in bici, infatti dobbiamo svolgere fuori dal ghiaccio dei lavori molto molto duri di potenza specifica in palestra e anche in campo d'atletica. In questo periodo, cioè da primavera fino al primo autunno, il mezzo fondamentale è la bicicletta, oltre tutta la preparazione a secco e poi si sale sui pattini e il periodo più duro va da settembre ai primi di novembre con la grossa mole di lavoro che ti prepara per tutta la stagione. Quindi un grosso carico a livello della parte bassa del corpo, le gambe, i glutei, i quadricipiti come già accennato, quindi moltissime ore di palestra, di potenziamento, così. Sì, come detto te, però il patinaggio è bello perché ti prepara, secondo me, a qualsiasi sport e se sei un atleta forte nel patinaggio non leni soltanto la parte dei glutei, i quadricipiti della gamma, ma il corpo nella sua generalità, quindi è bello anche per quello. Certo, è una disciplina dove si usa soprattutto la parte bassa del corpo, quindi dovete, compensare per far sì che non abbiate un fisico poi disarmonioso, quindi che cosa fate poi oltre, appunto, come ripeto, gambe e fate del... Beh, fondamentale, anche se non sembra, è il potenziamento del tronco, del busto, perché fa da supporto al movimento delle gambe, quindi la nostra è una preparazione a 360 gradi. Tanta bicicletta, siete qua a Livigno in questo periodo, avete anche l'occasione di incrociare diversi ciclisti professionisti, quindi ogni tanto se riuscite vi attaccate a questi trenini super veloci. Sì, è anche un motivo di entusiasmo per venire a Livigno perché sappiamo che, appunto, possiamo condividere qualche momento di allenamento con ciclisti veri e propri, perché non siamo veramente dei ciclisti, anche perché non possiamo neanche paragonarci, però è sempre bello affiancarsi e pedalare un po' assieme ad atleti che magari vanno a vincere il Giro d'Italia, per esempio. Certo, veniamo alla tua carriera Enrico, sei pattinatore da sempre, hai cominciato da piccolino, oppure magari tu sei di Roana, un paesino vicino ad Asiago, hai cominciato con un'altra specialità o subito sui pattini? Io ho sempre solo fatto gare di pattinaggio a livello agonistico, poi sono cresciuto giocando a calcio, andando con gli sci, andando con gli sci da fondo, facendo piscina, però come gare ho sempre fatto solo pattinaggio da quando avevo 5 anni. Da 5 anni, quindi una vita veramente passata sui pattini, quindi la classica trafila, le garette provinciali, regionali, poi le prime nazionali, ti ricordi il tuo primo titolo nazionale da giovane? Titolo nazionale da allievo B, che sono i corrispettivi junior D, quindi all'incirca 14 anni. Eri già un talento sin da piccolo oppure sei maturato col tempo? Ma non mi piace considerarmi un talento, vincevo qualche gara ma avevo sempre avuto la fortuna di avere una concorrenza sempre molto accanita, che ha sempre mantenuto alto lo spirito combattivo tra di noi quando si era ragazzini, perché è la cosa più importante e soprattutto ho sempre fatto il patinaggio divertendomi, prendendolo quasi come un gioco, prima di arrivare alla carriera vera e propria dai 18 anni in su, in cui si prendono le cose su serio, questo è fondamentale un po' per tutti i ragazzini. Enrico, durante la tua giovinezza e la tua gioventù patinavate sul ghiaccio naturale o c'erano già le piste artificiali? Non c'erano entrambe, su tre piste da 400 metri in Italia due erano già artificiali, cioè con l'Albo e il Baselga di Pinè, che quest'ultimo è il nostro centro federale, e poi c'era la pista naturale di Busafondo a Gallio, su eltopiano di Asiago, dove ad oggi si può patinare a rotelle, dove facciamo anche dei raduni sui patinare a rotelle, insomma. Però ho avuto la fortuna anche di patinare sui laghi ghiacciati, ma mai di farle gare. I laghi ghiacciati in Italia oppure come conosciamo, per sentito dire, in Olanda, dove si patinano su questi fiumi, i canali? No, solamente in Italia, ho mostro i miei primi passi sul laghetto di Roana, che era ghiacciato e poi sono passato alle piste artificiali, invece in Olanda non ho mai avuto il piacere di mettere i pattini sui canali ghiacciati. Non ti piacerebbe? Non potrebbe essere? Tantissimo. Perché credo sia veramente un'emozione unica. Sì, e poi dove è nato il patinaggio? Tanti anni fa, quindi non ho mai avuto l'occasione di farlo, magari un giorno che sono in Olanda e che fa freddo, perché ultimamente è raro anche avere quello. Lo farò. Enrico, poi l'entrata per te nel gruppo sportivo Nelle Fiamme Oro, quindi nella polizia, insomma una bella mano in più per voi atleti. Sì, è stato veramente fondamentale per la mia carriera e come lo è per tanti atleti che fanno questo sport. Sono entrato Nelle Fiamme Oro nel 2004, è stata sicuramente una motivazione in più per impegnarmi e per fare il patinaggio, il mio stile di vita per gli anni a venire. E va il mio grazie di cuore anche a loro per avermi incentivato in questa avventura. Quando è decollata la tua carriera? In che anno è decollata? Non c'è stato un vero e proprio decollo. Io sono passato senior nel 2002 e avevo già partecipato alle Olimpiadi a Salt Lake quell'anno e poi la mia caratteristica è stata quella di crescere gradualmente stagione dopo stagione, da lì a 4 anni, cioè vuol dire per l'Olimpiadi di Torino, ma non ho fatto un balzo enorme tra una stagione e l'altra e questo secondo me è stato anche un po' positivo per la mia carriera perché poi mi ha consentito di rimanere a certi livelli per diverse stagioni anche dopo l'Olimpiadi di Torino. Ci ho chiesto quando è decollata la tua carriera, tu giustamente mi hai detto sei cresciuto pian piano, c'è da dire che ti presentavi poi alla vigilia dell'Olimpiadi di Torino con un titolo europeo all round, quindi con le carte in regola per fare bene e vincere gli europei non è cosa da poco, i migliori al mondo sono praticamente tutti in Europa, qualche America, quindi Stati Uniti e Canada non sono da meno, però gli olandesi erano sempre e sono tuttora credo tra i più forti al mondo, quindi ti presentavi con le carte in regola. Sì, la vittoria dell'europeo mi ha dato veramente una mano per trovare la motivazione necessaria per affrontare i giochi con entusiasmo, poi vincere un europeo nel nostro sport è quasi come vincere un mondiale, anche in Olanda ha quasi lo stesso prestigio di un titolo del mondo, anche perché le nazioni che storicamente sono più forti nel patinaggio per quanto ricorda le distanze medio e lunghe sono in Europa tra l'Olanda, la Norvegia, la Germania, oltre a qualche americano che si presenterà ai mondiali, per cui questa cosa mi aveva aiutato moltissimo. L'Olanda ne fa da padrone nel patinaggio di velocità, molte volte ci è capitato di dire come in Olanda sia lo sport principale il patinaggio e qualcuno storce il naso perché dice no, è il calcio, tu che ne pensi? Per quanto riguarda gli sport invernali, per me si aggiocano storicamente il patinaggio, perché io vedo quando si va in Olanda, sia quando era atleta ma anche adesso, ogni domenica c'è la diretta per la Coppa del Mondo, che sia anche in Germania o in Russia o in Norvegia o in America e soprattutto quando c'è un europeo mondiale che si faccia in Olanda lo stadio è sempre pieno e comunque la gente sta guardando quello in diretta a casa, seduti sul divano. Ovvio che il calcio ormai è lo sport d'Europa, è il più diffuso al mondo, per cui sicuramente è quello che è il sport più seguito, però il patinaggio dopo il calcio in assoluto è quello che va per la maggiore. Siete considerati delle star, insomma non era facile per te girare in Olanda senza l'assidio dei fans e quant'altro? Non sono mai arrivato a livelli da non poter girare tranquillo, assolutamente, però ancora prima di, ancora due anni prima di vincere l'Olimpiade in Italia, la gente, almeno gli appassionati di patinaggio in Olanda, mi conoscevano molto bene perché già da quando arrivavano i primi dieci campionati europei mondiali, già la televisione olandese mi si avvicinava a farmi delle interviste, comunque essendo uno sport visto da tutti, la gente conosce chi lo pratica ad alto livello. Certo, è un pubblico sportivo, un pubblico che applaude? Moltissimo, secondo me il pubblico migliora il mondo come correttezza nei confronti delle altre nazionalità, gli olandesi a me hanno sempre colpito perché tifano chiunque vada forte, infatti ho sempre avuto dei miei fan, dei miei ammiratori olandesi ogni volta che andavo a fare delle gare in Olanda, anche se non ero olandese, per cui è una cosa bellissima secondo me. I famosi orange, che è vero, si distinguono un po' in tutto il mondo ed è bello, peccato che in Italia. È bello che sono molto coloriti, sono molto festaioli e anche la parte bella dello sport, no? Certo. Da quest'anno avete la fortuna di avere nella team della nazionale italiana una campionessa olandese, è l'attuale moglie di Matteo Anesi, una signora campionessa che può importare qualcosa della mentalità olandese nella squadra italiana. Sì, lei è venuta a allenarsi con la nostra squadra perché aveva la piacere di allenarsi con noi, allenarsi con Maurizio Marchetto, quindi la nostra squadra aiuta lei ad allenarsi, però io sono convintissimo che lei serve anche da modello per i nostri ragazzi, perché come hai detto te, importa le caratteristiche di un atleta professionista al 100%, che molto più spesso si trovano in Olanda, ma proprio perché ci sono i numeri molto più alti e loro vengono fuori da una scrematura molto più severa rispetto alla nostra, per cui ci si aiuta a vicenda e questa è una cosa molto bella secondo me. Stiamo parlando di Marit Lenstra, oro nell'inseguimento di Soci 2014, una ragazza che ha avuto modo di conoscere, molto carina, molto disponibile, che parla anche italiano, quindi insomma anche le culture si mixano. Tu hai avuto modo di imparare qualche parola in olandese? Io veramente non ho mai imparato, a parte le parole essenziali, buongiorno, buonasera, come stai, però non ho mai avuto la fortuna di poter imparare anche l'olandese, magari chi lo sa un giorno non si sa mai. Durante le interviste, quindi all'estero, te la cavi con l'inglese? Assolutamente, con l'inglese. Beh, hai imparato quindi qui in Italia, nelle scuole, che scuole hai frequentato Enrico? Ho fatto liceo scientifico ad Asiago. Quindi è una scuola impegnativa, ma sei riuscito a portare a termine avanti bene tutte e due le tue attività? Sì, è stato un periodo molto duro, perché soprattutto gli ultimi tre anni da casa mia dovevo muovermi il pomeriggio a Baselga di Pinè per allenarmi con la società, con i ragazzi del mio club. Quindi da Asiago a Baselga sono un'ora e mezza? Un'ora, un'ora. Ok, un'ora di stare bene. Posso vantarmi del fatto che non ho mai avuto nessun problema a scuola, secondo me, anche perché sono sempre stato obbligato, tra virgolette, a organizzare il tempo e le energie per far bene entrambe le cose. Per cui sono sempre riuscito a far bene entrambe, meglio così. Ci descrivi la tua giornata tipo di quando eri studente, questo per far capire ai ragazzi da casa che si può diventare super, mega campione olimpico studiando, frequentando il liceo, ripeto, una scuola non facilissima. Giornata tipo? Sveglia alle sette, otto meno un quarto cominciavo a scuola, fino all'una e mezza, a casa e mangiavo pranzo a casa e poi col furgone prendevamo la strada che porta a Baselga di Pineda da Roana e tornavo agli sei, mezza, sette di sera, mangiavo e dopo cena facevo le versioni di latino, studiavo biologia e filosofia. E poi andavo a letto e si ripete il giorno dopo. Ti allenavi sin da giovane tutti i giorni? Beh, gli ultimi tre anni in junio sì, tutti i giorni, anche perché è giusto anche che sia così, cominciare verso i 16 anni a impostare una programmazione un po' più seria, un po' meno ludica allo sport, per cui ho anche avuto la fortuna di avere avuto dai 15 ai 20 anni Alessandro Taddei come allenatore che mi ha tirato su in maniera seria e professionale da una parte ma anche leggera dall'altra come atleta, quindi devo tanto anche lui. Abbiamo parlato prima della tua fama internazionale, la vita penso ti sia cambiata da un giorno all'altro dopo quel loro di Torino, anzi dopo quelle tre medaglie, penso sì ti sia ritrovato in una centrifuga dove all'inizio magari era difficile districarsi ma poi è tornato a tutta la normalità oppure il nome di Enrico Fabris tuttora è rimasto nella memoria di molti, moltissimi? Posso dire che sì ma che ha cambiato la vita soprattutto nell'immediato le medaglie olimpiadi perché come hai detto te mi sono trovato in un vortice di impegni da una parte ma anche di emozioni e soprattutto del fatto che mi sono reso conto che ero visto diversamente dagli occhi della gente che mi aveva visto gareggiare, però dentro di me mi sono sempre imposto di rimanere la stessa persona che ero prima e so che per atleti di sport molto più esporti anche mediaticamente questo non risulta sempre facile quindi io ero anche avvantaggiato però sono convinto che non sono cambiato rispetto a quello che ero prima e di questo me ne vanto Beh io te lo posso confermare, davvero sei rimasto un ragazzo semplice, umile e questo ti fa veramente onore Enrico abbiamo parlato prima di uno sport in cui ci si misura un po' in tutto il mondo Per gli appassionati della disciplina ci ricordiamo un po' tutti le tue lotte con l'olandese Kramer ma anche con l'atleta di colore Shani Davis proveniva dallo short track e può essere buttato in pista lunga con ottimi risultati, un'amicizia tra di voi era nata se non ricordo male, oltre ad essere avversari eravate avversari amici? Sì siamo stati avversari molto accaniti soprattutto quella stagione perché lui prima nel 2005 aveva già vinto l'oro nei 1000 e storicamente il 2005 era una sua distanza, secondo me lui era quasi troppo sicuro di vincere il 2005 infatti mi è arrivato molto molto vicino, però c'è sempre stato un grandissimo rispetto tra me e lui soprattutto dopo quella gara, lui mi ha dimostrato anche con un abbraccio molto spontaneo secondo me la sua stima nei miei confronti e io l'ho ricambiata insomma ringraziandolo e facendo i complimenti per quello che aveva fatto anche lui perché comunque era raggento alle Olimpiadi per cui non sono mai stato amico intimo suo ma c'è sempre stato un grandissimo rapporto di fair play e di rispetto reciproco È cambiato il movimento del patinaggio in Italia dopo le tue medaglie? I numeri furono in crescita? Su questo purtroppo devo dirti no, è stato un po' un rammarico a distanza di 10 anni ma il patinaggio bene o male è rimasto uno sport molto piccolo relegato a tre impianti nell'arco alpino anzi in due regioni dell'arco alpino, il Veneto e il Trentino Alto Adige e questo secondo me era anche un po' inevitabile perché bisognava fare ben altro che sfruttare i risultati dell'Italia a Torino per cambiare uno sport a livello nazionale però noi continuiamo ad andare avanti con la filosofia di sempre che è quella del pochi ma buoni Hai ragione Infatti siamo pochi ma siamo anche buoni perché lo scorso mese di febbraio siamo arrivati a un centesimo di secondo dalla medaglia di bronzo ai mondiali con il seguimento a squadre con nessuno dei ragazzi che ha fatto l'oro dieci anni fa quindi sono tutti ragazzi nuovi giovani per cui il lavoro si sta facendo comunque al 100% sia dalla parte delle società che sforno i nuovi ragazzini ma anche da parte della federazione e nostra come nazionale per poi incentivarli a rimanere e dare i loro frutti Qual è il messaggio principale che cerchi di trasmettere ai tuoi ragazzi, ai tuoi azzurri? Il messaggio principale secondo me è cercare sempre di dare 110% però di continuare a pattinare divertendosi Tanti non lo fanno e quando cominciano a divertirsi spariscono Magari uno pensando alla vostra disciplina pensa ovvio la passione vi lega a questa specialità ma come ci si può divertire in uno sport in cui la metodologia è sempre la stessa, un anello ovale si pattina, si pattina, le specialità sono quelle, come ci si diverte pattinando? Ti sembrerà una risposta assurda ma anche scontata però io mi divertivo a far fatica forse è una cosa che capiscono solo pochi, solo chi fa sport ad alto livello però io pensavo di alzarmi mattina quando ero atleta e dover affrontare lo stelvio in bicicletta che è estenuante e mi dava energia invece che togliermi quindi avevo fame di far fatica e questo mi ha consentito di non aver mai paura di allenarmi Certo, qual era la tua dote principale Enrico? La tecnica, la forza? Ma io ho sempre avuto una tecnica molto buona anche perché l'avevo sempre cercato di curarla nei miei particolari e sto cercando anche di trasmetterla più possibile ai ragazzi però secondo me è stata la costanza nel fare le cose, ho allenato tantissimo per brevi periodi di tempo ma ho sempre mantenuto uno standard molto alto per lungo tempo Non hai avuto nemmeno fretta di bruciare le tappe e questo grazie ai tuoi allenatori e probabilmente è stato anche questo il segreto della tua carriera così longeva anche, scusa, longeva sì ma che poi si è interrotta bruscamente insomma eri ancora giovane nel 2011? Sì ho smesso subito dopo aver compiuto i 30 anni nel novembre 2011 e come ho detto prima l'importante è anche avere sempre un ingrediente di divertimento nel sport a alto livello io cominciavo a non divertirmi più e mi rendevo conto che non è come andare a lavorare che in qualche modo fai la stessa cosa, basta che la tua faccia e nello sport se non fai le cose in maniera convincente credendoci al 100% perdi già il 50% del risultato finale Io mi sono trovato in questa situazione grazie per colpa soprattutto di un po' di problematiche di schiena che mi davano fastidio da più di un anno e mezzo per cui a un certo punto ho detto basta, torno a casa dalla mia famiglia È una disciplina che sotto il profilo fisico richiede, abbiamo già detto tante volte, una certa forza ci sono degli infortuni di prassi? Dipende tanto dalla metodica di allenamento ovviamente anche dal fisico dell'atleta però non è uno sport che prevede infortuni da cadute o da traumi bruschi come potrebbe essere nello sci, nella discesa o nel calcio, nei contrasti possono esserci delle problematiche da prolungato sovraccarico di allenamento però se gestite in maniera intelligente l'allenamento stesso con determinati tipi di preparazione si possono evitare benissimo Enrico, se tu non fossi stato un patinatore, che cosa saresti stato? Un patinatore Chiaro Adesso, ora sei allenatore, pensi che la tua vita prosegua sempre sul ghiaccio oppure da più grande pensi di svolgere qualche altra attività? Beh, al momento mi dà soddisfazione quello che sto facendo anche perché l'obiettivo delle Olimpiadi è comune agli atleti ma anche agli allenatori per cui rimango nel mondo che è stata la mia vita che mi ha dato tantissimo e questo mi riempie di orgoglio Tengo ben presente che ho una famiglia a casa quindi non è più come quando ero atleta però insomma penso moltissimo anche a chi asce a casa Nel 2018 in Corea del Sud ci saranno i giochi olimpici l'Italia su chi potrà puntare nel patinaggio di velocità? Beh, io preferisco non far nomi anche perché i ragazzi che sono in squadra sono giovani ma diversi di loro potranno fare molto bene sia individualmente che con la gara squadra per cui mi sento solo di dire che stiamo facendo un grosso lavoro di squadra assieme e questo è sempre stato il nostro punto forte anche se sono distanze individuali considerarci una squadra compatta e unita che crede in quello che sta facendo e mi sento solo di dire che stiamo dando più del 100% con grandissimo entusiasmo tutti quanti quindi avanti così Benissimo, davvero un grosso in bocca al lupo Enrico Fabris Grazie per l'attuale Grazie a voi Grazie, grazie davvero e complimenti ancora per tutto ciò che ci hai regalato Grazie È tutto per questa sera grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo Buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti